Non mi è ancora di viva, mi porto via e attraverso pazienti e cure mi ha restituito la vita. E perché non vi siete presentata prima? Perché solo adesso mi sono convinta dell'innocenza di mio marito e della colpevolezza di questa donna. Maledetta! Maledetta! Devi tornare laggiù nella tua donna dalla quale sei uscita! Maledetta! Maledetta!